Oggi il coronavirus ha ucciso 30 piacentini, portando il totale dei decessi nella nostra provincia a quota 370. A livello locale i contagiati invece salgono a 1981, 96 in più rispetto a ieri. I dati sanitari dell'epidemia restano agghiaccianti, ma dal commissario regionale Sergio Venturi arriva un barlume di speranza. Presto infatti potrebbe esserci un'inversione di tendenza. I dati di oggi sono dati in gran parte positivi. Un incremento di oggi che è inferiore all'incremento di ieri e anche è inferiore all'incremento del giorno prima, quindi di sabato. Potrebbe essere un'inversione di tendenza e naturalmente dobbiamo sempre stare sul chivalano, mollare, tenere la guardia alta. In Emilia-Romagna, stando alle rilevazioni accertate alle ore 12 di oggi, i casi di positività al coronavirus sono 9.254, 719 in più di ieri. Sempre nella nostra regione, poi, i decessi sono passati da 892 a 985. Complessivamente inoltre sono 3.992 le persone in isolamento in casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Al tempo stesso, la regione evidenzia che continuano a salire le guarigioni a quota 558. Prosegue senza sosta, infine, il lavoro all'interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto. Sono 3.915 in Emilia-Romagna, di cui 595 a Piacenza.